benvenuti nel mio canale siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al mio canale dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica annunciata la giuria del sesto concorso denis bank prima sceneggiatura primo film nel 6 gradi denis bank first script first film competition organizzato in collaborazione con denis bank e la turkish cinema audiovisual culture foundation toursac i membri della giuria saranno selezionati per valutare i progetti che partecipano al tv series miniseries scenario competition primo concorso di sceneggiatura nei piattaforma di supporto alla produzione è successo organizzato quest'anno per la sesta volta denis bank first script script film competition con l'obiettivo di sviluppare la sceneggiatura che costituisce la base del cinema offre opportunità di formazione gratuita da parte di registi e sceneggiatori esperti oltre al premio in denaro per sostenere i giovani sceneggiatori all'inizio del loro viaggio cano can presidente della giuria del concorso serie tv sceneggiatura miniserie nella giuria del concorso serie tv miniserie scenario presieduta da cano can fondatore amministratore delegato di intermedia il produttore basa kabakgil il regista di o tre media drama scidem gayik l'attrice melis zen il direttore artistico nilu ferai sekamur il regista e sceneggiatore ozer feiziolu e l'attrice saliba demji dopo la valutazione in due fasi dei progetti partecipanti al concorso tv series miniseries scenario competition che si terrà per la prima volta quest'anno al vincitore verrà assegnato un premio in denaro di 30.000 tl il primo concorso di sceneggiatura e con gli appassionati di cinema per la sesta volta il regista sceneggiatore ozan aktan è a capo della giuria del first script competition che sta per diventare una tradizione nel suo sesto anno mentre il giornalista alie yubolu denizbank culture and art manager burkwan attrice sceneggiatore sceneggiatore sema ergenekon attrice regista scrittrice tamer levent e regista turcanderia il progetto che ha vinto il primo posto nel concorso per la prima sceneggiatura ha ricevuto un premio in denaro di 20.000 tl questo progetto prevede anche la partecipazione diretta nella categoria production support platform del 7 gradi denizbank first script first film competition inoltre i primi dieci scenari possono anche partecipare al seminario sullo sviluppo di scenari online in tre parti ci sono nomi di valore nella giuria della production support platform il ceo di bk m zoom rutaro il becce è il capo della giuria della piattaforma di supporto alla produzione che si è tenuta per la seconda volta quest'anno per gli scenari che soddisfano determinati requisiti per ricevere un supporto più professionale la giuria comprende anche il produttore bulent turgut l'attore karen bursin il produttore mehmet campolat il cmo di blu tv merve nazat maus durac l'attrice nilperi seincai e il produttore onur guvenatam organizzata per la seconda volta quest'anno la piattaforma di supporto alla produzione mira a fornire il sostegno finanziario di cui hanno bisogno a produzioni di qualità che hanno raggiunto un certo stadio nello sviluppo del progetto e a consentire loro di raggiungere un pubblico più ampio con la potenza di denizbank e della fondazione tursac il progetto selezionato per primo dalla giuria della piattaforma di supporto alla produzione riceverà un premio di 50.000 tl era così nelle nostre notizie se ti piace premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti ciao e ci vediamo al prossimo video